Già Rezzamble è nato a Cremona, ma sui genitori sono originari della costa d'Avorio. Nonostante la sua nascita sia avvenuta qui, sono state tante le discriminazioni a quest'altro soggetto. Con il tempo le persone lo hanno conosciuto e hanno capito che non aveva nulla e meno di loro. Da parte sua però c'era la voglia di far parte del nostro territorio, proprio come un italiano, cosa a volte non facile, soprattutto a livello burocratico. Anche se sono nato qua in Italia ho dovuto pagare per essere italiano, cosa un po' anomala, però ho toccato fare anche quello. Fino ai 18 anni io ero supermesso di soggiorno dei miei genitori. Cosa dicono i tuoi parenti del fatto che voi siete in Italia? I miei parenti vedono l'Italia come l'isola felice, non vedendo effettivamente i problemi che ci sono qua, e i problemi per quanto riguarda inizialmente l'integrarsi. A volte si parla un po' di odio verso lo straniero, ma capisco anche quando non si cerca di conoscere più che altro, di avere questa forza qua, di capire che effettivamente al mondo non siamo iunici. Nonostante le difficoltà, Jared ha messo il cuore in tutto quello che ha fatto, come ad esempio nel calcio, la sua passione. Ho avuto la fortuna di giocare per la squadra della mia città, quella che è la Cremonese, a cui effettivamente devo tanto. Adesso sto giocando tutt'ora, sto giocando. La Cremonese si è interrotto tutto, se non mi sbaglio, nel 2013-2014. E poi hai anche messo sua famiglia, una compagna cremonese. Sì, sì sì sì, anche lì ho trovato la mia stabilità una volta che sono tornato ad abitare qua a Cremona, perché il calcio mi ha portato anche fuori di casa abbastanza presto. E una volta tornato ho detto, dai, è anche ora di mettere anche un po' le radici qua. Ho avuto la fortuna di conoscere la mia compagna, anche la fortuna di diventare da poco papà. E dai, per quello mi ritengo veramente fortunato. Ho avuto la fortuna di conoscere la mia compagna,